Mi trovo qui all'auditorio, al parco della musica e in un ricordo da poco, perché inopinatamente sono stato coinvolto a partecipare a questo concerto, per la mia volta in vita mia, in modo inedito. Incontrare Sham, se non altro, non avevo mai avuto a che fare con un Grammy in persona, quindi già solo quello io ho avuto un timore reverenziale, un onore assoluto, ma posso dire che è già stata un'esperienza meravigliosa, perché abbiamo improvvisato, stiamo improvvisando la possibilità di interagire più del dovuto, di quello che era attuito, tra voce e musica. Non svelo nulla, ma insomma stiamo provando a capire se ci sarà possibilità di interagire tra me e lui, praticamente, e devo dire la cosa che è stata entusiasmante, anche solo in prova. Ora non vi garantisco la resa, ma insomma non voglio adesso, metto le mani avanti, ma secondo me potrebbe venire fuori una roba di freestyle improvvisato, senza precedenti per l'intero auditorium, tutta Santa Cecilia. Vi aspettiamo quindi numerosi all'auditorium, Parco della Musica, Ennio Morricone, alla Sala Santa Cecilia, ad assistere a questa esecuzione fuori dal comune delle quattro stagioni di Vivaldi, se non atto per la mia presenza, che non è da poco. Grazie.